buongiorno amici vacanze l'ambia buongiorno a tutti ci siete ho già visto buenos dias amico buongiorno buongiorno ola siete già in tanti bene 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 dai cin alla nostra tisana oggi frutti di bosco tutti di bosco bene per chi ci dovesse vedere la prima volta e mi chiamo lorenzo lei è marzia e siamo di vacanze l'ambia puntocom e siamo qua a fare l'appuntamento giornaliero di quanto riguarda per te per tenerci compagnia l'un con l'altro con tutti gli amici di vacanze l'ambia che si che conosciamo e anche quelli che speriamo di conoscere presto noi con voi si chiama questo appuntamento quotidiano dunque eravamo partiti ieri parlando di aree camper normative parcheggi stalli dentro fuori multe e due amici di vacanze l'ambia ieri per la precisione marcello barillari e aveva nominato casal borsetti e roberto di francesco invece l'area camper di mergo chiamata lock no lock esatto quindi oddio che ci stanno cercando luca stella che dico che sta bigiando la lezione luca ci sei commenta se è arrivato in classe dunque effettivamente questi due amici vacanze landia ieri hanno nominato due aree di successo perché perché sono di successo perché hanno creduto fin dall'inizio di investire per i camperisti noi le conosciamo entrambe ci siamo stati conosciamo anche le motivazioni per cui sono nate e ci fa piacere condividerle con voi se non le conoscete e scriveteci nei commenti se conoscete quella di casal borsetti e provincia di ravenna e quella invece di mergo in provincia di ancona che nella vallesina chissà se riusciamo a beccare anche l'ex sindaco corinaldesi che ideò quest'area camper di mergo abbiamo provato al telefono non risponde adesso vedremo se riusciamo a contattarlo durante questa diretta altrimenti parleremo noi sì perché lo conosciamo bene ci ha sempre raccontato di questa idea che trovò anche degli ostacoli perché non tutti furono così concordi nel realizzare quest'area camper dunque abbiamo manuela che dice mergo un piccolo paradiso effettivamente mergo è un borgo una chicchina ma anche in posizione strategica perché lì vicino ci sono le grotte di frassassi che sono una delle nostre eccellenze italiane quindi parliamo con partiamo da casal borsetti ma ci siete mai stati a casal borsetti fate il pollicione su se chi è nato chi è stato casal borsetti almeno una volta allora si vediamo se viviani che lo conoscono tutti non so neanche se devo presentarlo è il titolare di acqua travel che avremo poi prossimamente anche come ospite scrive casal borsetti fantastica soprattutto perché adiacente alle spiagge dove si possono portare i cani esatto questa qua è una bella caratteristica casal borsetti infatti loro ha puntato subito e fin dall'inizio con quel tipo di servizio infatti casal borsetti c'è la sua spiaggia per cani e all'area prezzata naturalmente si possono tenere i cani e questo ha fatto sì che riscontrasse un grandissimo successo fin da subito ma perché è nata l'area camper casal borsetti allora aspetta che leggo un paio di commenti poi partiamo allora domenico dice per quanto riguarda un buon collegamento wifi stabile su camper se avete consiglio router antenne provate le facce ne parleremo ce lo segniamo e vediamo di inserirlo negli argomenti delle appuntamenti successivi aurelio dice molto bella anche l'area sosta di torbole e ricordo l'ago di garda la fina che io che però noi non siamo mai stati abbiamo visto se l'hanno parlato marcia fate recensione così condividiamo anche nel gruppo si fabio ci saluta perché deve andare via ciao fabio ci sentiamo al telefono dunque casa al borsetti come è nata questa quest'area can che è enorme enorme parliamo di cose allora queste queste informazioni sono quelle cose che sappiamo noi perché abbiamo parlato con delle persone può darsi che ci siano persone che ne sanno più di noi però noi vi diciamo quello che noi abbiamo saputo perché non vorremmo scontrarci con altri che dicono ma ma noi sappiamo questa versione allora casal borsetti era un paese che ha sempre sviluppato la sua località turistica nelle seconde case nelle seconde case bel luogo tranquillo c'è tutto c'è la chiesa il supermercato c'è tutto quello che serve una bella spiaggia i bagni effetti stabilimenti baniali però la prologo del paese vedeva che da da metà settembre fino alla all'inizio di maggio il paese era morto poi soprattutto anche chi ha le seconde case non è che faccia grossi acquisti tipo va meno al ristorante cioè usufruisce un po meno della degli aspetti dei servizi del paese sì quindi l'economia girava poco la gente arrivava con la propria roba da casa quindi un po il paese soffriva di questo turismo domestico così delle seconde case allora durante un incontro tra la prologo e gli esercizi commerciali a una persona che in quel momento era il titolare della ferramenta del paese della ferramenta del paese non ha dato mai camperista nel senso che lui ha affermato che non era mai stato in camper non sapeva neanche cosa ci fosse sopra il camper esatto non diceva ma perché in quella zona là dove adesso c'è quel grande prato vicino alla pinetta con l'accesso diretto alla spiaggia non facciamo un'area sosta camper perché poi i camper ci sono ma in giro facciamo in modo che si femmino qui che stiano bene così dopo il paese ha più vita ecco quindi l'area camper Casal Borsetti nato per questo spirito di poter portare un certo tipo di turismo in un luogo dove stava un po mancando un certo tipo di continuità di continuità del turismo ho detto ma prendiamo i camperisti facciamo un'area aperta tutto l'anno in modo che loro vengono stiano qui e consumino e faccio quel che voglia infatti quello che fin dall'inizio dell'area camper gli esercizi commerciali hanno visto che i camperisti frequentavano molto assiduamente quest'area Casal Borsetti è un paese diviso in due da un canale allora la parte vecchia è diciamo a sinistra di questo canale con tutti gli esercizi commerciali nella parte destra c'è la parte un po' più nuova e l'area camper questo canale faceva la barriera per le persone che casomai volevano andare a fare la spesa e visto che i camperisti erano persone che piaceva andare negli esercizi commerciali i negozi pian pian si sono tutti spostati al di qua del canale per avvicinarsi all'area camper e fare in modo che il camperista abbia avuto meno fatica diciamo poteva fare meno fatica arrivare ai negozi no effettivamente Casal Borsetti è stata riqualificata pensate che c'era anche un progetto che doveva diventare il secondo porto turistico del Mediterraneo dell'Adriatico e quindi fare anche tutta una riqualificazione e in questo progetto era previsto lo spostamento dell'area camper esatto l'area camper doveva essere spostata molto all'interno dietro anche gli impianti sportivi quindi circa un chilometro e mezzo due chilometri due chilometri e mezzo dal mare quando invece adesso c'erano 200 metri perché in quella zona lì doveva aprire un canale per fare una mega darsena con appartamenti con resti descoli morale morale a tutti oggi visto che la prima darsena che abbiamo costruito ha fatto molta fatica a partire tuttora pensiamo che non sia partita il paese ha detto aspetta bene a fare la seconda darsena perché la prima innanzitutto è costata solo dei soldi fino adesso non sta portando niente questi qua vengono tutto l'anno questi camperisti e ci portano i soldi per poter vivere tutto l'anno figurati se adesso noi gli andiamo a scontentare sbattendoli dietro il campo sportivo per fare una darsena che poi rimarrà vuota infatti l'area camper ancora bella attiva anzi ha aumentato penso uno dei piazzoni con elettrificate comunque è un'area enorme evo dice mio primo ingresso fu 25 anni fa quando proprio era era solo la parte quella davanti e noi abbiamo iniziato 18 19 anni fa c'è andare a regolare aurelio dice bellissime idee sia commerciale che turistica infatti lì è un come si dice in gergo case history una un caso di successo proprio che ci piace raccontare perché loro all'inizio abbiamo andato il matto si all'inizio sono stati presi per il matto hanno detto ma cosi camper ma poi come funziona c'è non avevano tutti creduto in questa sua lungimirante idea in realtà lui se c'è questa scommessa poi gli andò bene ecco esatto allora leonora richiede a casa da borsetti prende anche le roulotte no perché non ci sono i servizi almeno l'ultima passati non credo abbiano messi no 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 perché casa borsetti proprio un'area camper dove c'ha delle docette esterne dei lavandini esterni ma non ha proprio almeno ai servizi proprio quelli che possono accettare a proprio due lavandini in croce e diciamo a una parte elettrificata in modo che potesse lanciare la corrente e camper service che che nei momenti di punta fa un po fatica però d'altro canto i momenti di punta ci sono poche volte e quindi alla fine tutti si possono fare camper service tranquillamente giocandoci la giornata allora il discorso è che ognuno può aprire la propria veranda c'è uno spazio di prato c'è una ciclabile vicina c'è una ciclabile vicina che costeggia tutta la costa quindi anche quella è molto bella da fare sia verso le bocche del reno la forza del reno sia della parte sud poi vabbè io che sono sempre quella dell'aspetto culinario poi lì nell'area camper c'è il chioschetto delle piadine esatto e la friggitoria di pesce cioè quando noi avevamo Filippo piccolo il nostro weekend era che alla domenica sera tutti le docce Filippo gli mettevamo anche il pigiamino tutto ci mangiavamo una bella piada e ricasavamo dopo le nove nove e mezza di sera perché così avevamo già smaltito tutto il traffico domenicale e ci sembrava di aver fatto un weekend lungo di vacanza effettivamente noi li chiamiamo i weekend ignoranti perché sono quei weekend non troppo lontani da casa ma che ti staccano proprio la spina effettivamente andare a fare 100-150 km in un weekend e andare e certo ci vado a tornare o 120 sono sì da noi sì da noi c'è che 120 li chiamiamo i weekend ignoranti perché sono quelli senza pretese i weekend dove ti rilassi stai con la tua famiglia due chiacchiere quando ritorni ti sembra di aver fatto la canta torni indietro di qualche messaggio perché mi aveva scritto Massimo dicendo che di solito ogni anno a Mergo organizzo un raduno campo e non sono mai andato perché vicino a casa 40 km ma sono ottima l'organizzazione 40 km sì, è vicino a casa però si cambia già l'area di casa quindi anche noi siamo andati a visitare dei luoghi con il camper facendo il weekend di posti che sono 40-50 km perché quando uno ci va con l'auto non sembra di essere in vacanza andare a vedere un posto vicino con l'auto non sembra di essere in vacanza invece se uno ci va con il camper anche se sono 40-50 km è già a vacanza e vede il paese e vive quel paese in maniera diversa lo vive proprio da turista anche se a 50 km noi ci postiamo con il camper e andiamo a fare anche due giorni in posti da 40-50 km aspetta che leggo allora Eleonora è dispiaciuto e peccato perché tanti di noi hanno la roulotte con tutti i servizi come il camper eh lo so però qui purtroppo è la normativa italiana che è l'ignoranza di chi le rilascia le concessioni se se i comuni e lo stato italiano capissero che una struttura ricettiva che è dotata di certi requisiti può accogliere anche le caravan ecco tutto sistemerebbe il problema è che la caravan in passato era ritenuta un mezzo di mezzo che utilizzavano alcune persone che i paesi non volevano non avevano piacere avere e quindi hanno messo hanno messo questa etichetta sulla caravan però noi riteniamo che sia uno strumento di vacanza bellissimo molto versatile versatile poi per le famiglie è uno spettacolo ne parleremo dai ne parleremo perché la caravan è comunque uno strumento che può dare la possibilità a chiunque di fare vacanze come chiunque le può fare con il camper naturalmente bisogna andare nelle strutture giuste e utilizzarla nel giusto modo e anche l'itinerario rimodulare l'itinerario rimodularlo e tutte altre cose cioè la vacanza con la caravan e la vacanza col camper sono due cose che si possono tranquillamente grazie dice appena possibile ci andiamo manuele immaginavo se arrivasse la piada beh se ci sono io la cucina bisogna sempre parlare la piada è oh sono buone la Romagna spingono eh la piada allora Aurelio dice per noi è un pochino lunga sì infatti per voi un weekend sarebbe sprecato perché sono troppi chilometri però ehm se per caso vi capiterà di venire verso questa parte della costa Casal Borsetti è poco dopo eh venendo dal nord di Comacchio quindi Comacchio il parco le le saline su tutte le zone comunque dirà la bellezza perché comunque noi siamo abituati tutti andare in Camarga a vedere questa wild ma il nostro parco del delta è la Camarga italiana quindi partendo da da diciamo il delta del Po da volano ma anche prima e scendendo e arrivando fino anche a Casal Borsetti sono tutte zone umide zone dove ci sono i fenicotteri, zone dove ci sono biciclabili, cavalli Valle di Comacchio è pieno di fenicotteri rosa esatto tutto l'anno quindi Casal Borsetti se uno gli piace o la bicicletta o c'è lo scuterino o la bici elettrica può fare base lì e poi quotidianamente spostarsi andando verso Comacchio poi c'è una pinetta spettacolare attenzione con le biciclette perché la pinetta si forano le gomme allora Ramona, verissimo Lorenzo, viva anche i campeggi vicini svegliarsi in roulotte camper non ha fretto esatto Ramona si Casal Borsetti ci sono anche altri quattro campeggi ci sono problemi dei campeggi che sono dislocati un po' lontani dal paese quindi per chi va in camper ed è a piedi si deve avere la bicicletta se no tutti i giorni fa delle passeggiate per andare a fare la sfida allora Ramona è blogger di Glam Caravan che sono tra i blogger che collaborano già da più di un anno e mezzo con Vacanzelandia quindi Ramona e Marco perché non essere ospiti del nostro appuntamento adesso ci sentiamo Franca dice tante zanzare è un po' dipende dai periodi dipende da effettivamente ci sono dei periodi che ce ne sono fanno parte del contesto bisogna attrezzarsi bene ci sarebbero dei dispositivi per difendersi dalle zanzare che le strutture potrebbero installare per bonificare il problema è che anche quelli sono investimenti e ogni struttura deve valutare che tipo di copro dare comunque tantissimi camperisti vanno là tutti i weekend ma vanno anche le vacanze le zanzare ci sono i picchi in cui ci sono poi spariscono di attrezzarsi siamo dove c'è acqua e calma di vento ci sono le zanzare allora la Monica Amali dice io ho bici elettrica vero? eh ho bici elettrica quindi vedi sempre le belle escursioni che tuo marito però invece è uno proprio che ha la bicicletta sportiva uno che va Giovanni salve buongiorno al CEA dici ci sono stato ho fatto una bella crociera sul delta del popolo sono stupendo è vero ci sono queste mini crociere giornaliere dove si va alle valli oppure verso il delta si va a vedere l'isola dell'amore esatto alcune partono proprio direttamente dalla spiaggia ossia viene la barca si va un po' nell'acqua tanto lì l'acqua rimane così per la vita dopo si sale sulla barca e da lì si fa la bellissima gita in motonave al delta del popolo alle valli anche e alle valli di Comar Gigi di Geoscooter buongiorno ottime cose Aurelio dice nel mar lo godiamo molto in bella primavera è l'area a cambio in casa da Borsetta è aperto tutto l'anno tutto l'anno è aperto potete andarci novembre dicembre gennaio febbraio ci sono anche tanti stranieri che la conoscono perché è un'ottima base per molti stranieri anche che vanno verso il sud Italia quindi devono transitare molti stranieri la conoscono in effetti anche novembre dicembre si vedono campe stranieri in Italia c'è un clima eccezionale e spettacolare considerando che al nord delle Alpi ci sono 10-15 gradi in meno nell'inverno diciamo più normali come quest'anno chi viene in Italia viene sicuramente a temperature che da loro sono inimmaginabili e allora poi è bello anche d'inverno il mare per chi per chi si trova nel centro della Germania dove il mare è lontano migliaia di chilometri venire in Italia ed essere col campo a 200 metri dal mare con la pienetta e beneficiare dello iodio dell'area di mare mangiarsi la piadina l'apertura di pesce si dai l'Italia è così non farci venire è un patrimonio l'Italia è un patrimonio e noi non riusciamo a sfruttarlo ma ce la faremo c'è molto da fare allora l'area Campermergo invece riusciamo a proviamo a chiamare Giuseppe chissà se ci risponde dunque l'area Campermergo in provincia di Ancona in Vallesina Vallesina che è una delle vallate bellissime noi abbiamo scoperto le Marche da pochi anni effettivamente le Marche sono stupende si sono però probabilmente a livello turistico proposte un po' tardi perché la Toscana le ha fatto un po' da anticipatore però le Marche sono belle tanto quanto la Toscana quindi con questi bei la bella lasciamo la costa l'entroterra ha paesini borghi dolci colline sono luoghi veramente incantevoli dunque noi conosciamo il sindaco l'ex sindaco non so se attualmente sia vice sindaco si si il sindaco fai vedere a i nemici della Cartelandia aveva preparato questa 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 immagine lui è Giuseppe Corinaldesi Giuseppe Corinaldesi che tanti sicuramente conosceranno perché lui ha fatto è sempre stato presente a Salone del Camper una volta con il suo stand altre volte invece in giro in visita con il suo camper a portare tutte le degustazioni del suo paese e dopo vi racconto un aneddoto perché è stato anche mio vicino di Stan ma anche nelle altre fiere minori tipo quella di Turita Marina di Carrara veniva sempre si 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 quindi come è nata questa quest'area a Merco poche parole c'era c'è quel casettino che vedete nell'immagine lì di fianco a noi quell'area era di vita a posto a un alloggio per il terremoto che era avvenuto nel duemila e duemila e duemila e sette duemila e sette qualcosa del genere nel teriporto che era venuto a Poligno però ecco il terremoto che era avvenuto nelle in quegli anni e lì c'era una casa che era stata fatta per degli sfollati e poi dopo era rimasta vuota a questo punto Giuseppe che era sindaco di quel paese nel momento in cui la casa si è rimasta vuota ha detto ma perché non trasformiamo quel luogo in area attrezzata camper vabbè il nostro paesino non conta neanche mila abitanti però se portiamo qua dei camperisti riusciamo comunque ad avere un certo giro siamo sulla strada che va fra sassi quindi una zona dove c'è il verdicchio che abbiamo tante cose qua da valorizzare facciamo in modo che si fiamano i camperisti e ci sono anche delle belle pievi dei cioè ci sono anche delle chiese di rara bellezza sì esatto esatto ci sono veramente dei paesini che sono un'eccellenza e qui anche Mergo è proprio carino carino sì dopo ho qualche foto che avevo preparato allora cosa è successo? è successo che ha realizzato su due piani due livelli l'area attrezzata camper che vedete qui dotata di elettricità di servizi igienici di tutto quello che che può servire e la casa è utilizzabile la casa è una casa che è stata trasformata con una zona giorno con posti per 18 persone a tavola un angolo cottura e un bagno e questa casa è di uso del camperisti e l'ingresso che hanno inventato a Mergo frutto dell'idea di Giuseppe corinandesi è di renderlo accessibile soltanto con la tessera sanitaria esatto da registrare chi entra dentro alla casetta perché la tessera sanitaria ha un codice fiscale e nello stesso tempo poter dare un ristoro un alloggio sfruttabile da quelle due tre camper che vogliono fare la cena comune all'interno proprio di questa casettina con la cucina tutto l'area gratuita dentro c'è una cassetta per le offerte e devo dire che le offerte comunque i camperisti le fanno perché i servizi sono tanti aspetta che leggo allora Alessio dice mio papà era marchigiano di che zona? siamo curiosi scrivice nei commenti papà e Rino di Alessio ricordiamo che il papà e il suo camper l'ha chiamato col nome del papà dunque allora non è che noi volessimo pubblicizzare queste due aree perché non era lo scopo il nostro obiettivo era farvi capire che chi crede dei camperisti ah questo è il cac no cac questo qua è lo scarico delle cassette dei WC allora naturalmente l'ingegno e i pochi soldi che questo piccolissimo comune aveva non erano diciamo non avevano in quel momento la capacità di poter prendere una di queste investire su una colonnina per scarico di un certo tipo allora hanno in economia effettuato questo sistema più che efficace e originale per poter scaricare le acque nere dei camper perfettamente funzionante tutto a posto quindi questo comune ha dato il proprio il messaggio che se se si vuole si può riuscire a fare qualcosa di più per il proprio paese in questo caso giuseppe corinandesi che adesso è diventato il vice sindaco della nuova amministrazione comunale continua comunque la promozione di questa struttura con i suoi da fare su facebook e gli esercizi commerciali anche in questo piccolo paesino che conta un ristorante un alimentare la chiesetta la chiesetta e basta hanno detto che quando ci sono i camperisti c'è vita c'è gente che va a fare la spesa c'è gente che va a mangiare la pizza o a pranzo o a cena al ristorante c'è movimento c'è movimento e questo ma anche le aziende agricole che sono nella zona portano il vino e l'olio su prenotazione ai camperisti che sono nell'area attrezzata quindi si può tornare a casa con il verdicchio con l'olio allora Aurelio dice Lorenzo e Marcia possiamo anche parlare di quanto costa creare un'area di sosta perché a volte tanti camperisti pensano che sia una cosa semplice ma non è così che sia privato che comunale grazie a volte si dà tutto per scontato e si critica i comuni tanto faccio vedere qualche foto di Merco che avevo scaricato è un paesino proprio piccolo proprio neanche mille abitanti pensate che questo borghetto qua medievale andammo a Raduno Merco e la domenica mattina ci fu una coppia di di sposi già una certa età questa qua la piazza che celebrarono il loro anniversario di matrimonio fossi 50 anni non mi ricordo e noi camperisti eravamo a messa alla fine siamo finiti a fare le foto insieme a loro quasi come fossimo nella famiglia sono cose che mi scaldano il cuore questi aneddoti di viaggio perché li ricordi per sempre come noi camperisti riusciamo ad amalgamarci agli abitanti e addirittura a finire nelle foto del loro anniversario di matrimonio allora racconto l'aneddoto di Giuseppe che è stato il mio vicino di stand a Sonia del camper era il mio dirimpettaio lui cosa ha fatto per nove giorni si era portato delle gran scatole di verdicchio e quindi per fermare i visitatori e poterli dare il lebbia diceva un goccettino un goccettino un goccettino e quindi la la conoscenza di questo territorio è adesso Emanuela mi dirà e dai è anche gastronomica noi considerate che il verdicchio l'abbiamo incontrato lì come come cantina cioè abbiamo proprio in quell'occasione di un raduno che aveva organizzato Giuseppe e anche Pasquale Basilisco che qualcuno forse conoscerà di Monise esatto di Monise e noi abbiamo conosciuto una cantina che produce verdicchio in maniera biologica artigianale artigianale e noi quando dobbiamo fare il verdicchio andiamo in quella cantina andiamo là con le nostre due tanniche o da migianino e cogliamo l'occasione di fare un passaggio una deviazione casomai proprio per la zona lì facciamo la nostra scorsa di verdicchio e poi poi continuiamo a fare le nostre cose allora alessio dice mio papà è di un paesino di 20 abitanti di nome Loretello Arcevia di Ancona non lo conosciamo allora e se Aurelio diceva quanto costa cioè quanto costa cosa fare un'area camper perché i camperisti danno per scontato che allora diciamo che come tipologia di struttura probabilmente si aprerebbe un mondo però diciamo che come tipologia di struttura ricettiva può per una piccola struttura non ha un grossissimo cioè non ha bisogno di un grossissimo budget come per fare un albergo o altre cose però richiede comunque un budget che se deve essere tirato fuori dalla famiglia è sicuramente un appartamento o una casa per dire come importo anche anche comune perché poi quando si iniziano a fare dei lavori si fanno le spianate si fanno le le condutture si urbanizza e tutto il resto fai presto a spendere 20, 30, 40 mila euro più devi attrezzarla poi devi pensare a chi la gestisce quindi stipendi oppure incasso sì poi la manutenzione l'erba ci sono tantissime cose che bisogna avere però sicuramente non costa come milioni di euro per fare un albergo un albergo o un campeggio diciamo in certo superficie la camper può nascere anche per step può nascere per 15-20 posti e poi dopo essere ampliata può partire senza le colonnine può partire in maniera più essenziale poi si può ampliare quindi il vantaggio di fare una struttura ricettiva è proprio quella i fatti comuni dovrebbero capire che certe volte conviene possono pensare di rivalutare una zona che casomai è andata in disuso attrezzandola con per i capristi e perché no anche per il caravan cioè alla fine se si dà un certo tipo di livello di servizio anche le caravan si premono le caravan sono dotate di serbatoi sono dotate di pompe dell'acqua sono dotate di inserbatoi di recupero cioè alla fine hanno la possibilità di farsi la docettina dentro cioè alla fine sono i veicoli ricreazionali che possono fermarsi anche loro bisogna soltanto che venga questo stimolo a fare qualcosa per questo tipo di turismo ma infatti l'obiettivo di oggi era condividere due aree camper che è successo che tra l'altro ehm avevano menzionato due amici di Vacanzelandia che ieri avevamo parlato di normative giusto per farvi capire che ci sono dei comuni lungimiranti come dicevo all'inizio che hanno voglia di vedere il nostro settore come una un'ottima fonte di investimento questi ci hanno creduto hanno scommesso e ora noi ne stiamo parlando proprio perché sono veramente due fiori l'occhiello del nostro turismo poi Aurelio citava anche quella di Torbole che noi non siamo mai stati però ce ne sono sul nostro territorio tante che ieri menzionavamo anche Corrinaldo in provincia di Ancona che ha è gratuita ed ha l'area picnic c'ha l'allace elettrico ce ne sono di realtà e speriamo ce ne siano sempre di più perché poi alla fine il nostro settore sta diventando anche importante è un cane che si muorge la coda allora vogliono sviluppare questo settore vendendo cercando di convincere la gente a comprare sempre i veicoli restazionari poi del resto cosa fanno per ampliare la la recettività di caso mai la recettività non segue la vendita delle camper delle caravan cioè bisognerebbe che fosse tutta una cosa organizzata in modo per dire ok creiamo tot posti ricettivi in tutti i comuni sviluppiamo di maggiormente il turismo l'area aperta tutte queste cose devono organizzate in maniera centrale purtroppo purtroppo chi deve farlo probabilmente non si riesce a mettere d'accordo con gli altri per una strategia comune allora si va avanti che qualcuno un'associazione spinge a vendere sempre più camper e caravan l'altra casomai quelle dei comuni non hanno direttive per fare le strutture ricettive siamo un po' slegati siamo un po' slegati siamo un po' slegati il turismo fosse un un organo che possa dare direttive a tutti quelli che ci sono infatti ma si adesso ce la faremo ce la faremo allora noi stiamo già contattando anche degli esperti come dicevo e non è facile perché poi alla fine ci sono persone impegnate perché hanno lo smart work e altre che hanno altri impegni comunque già da domani dopo domani avremo altre persone che si collegeranno con noi adesso telefonicamente via Skype e non staranno solo le nostre due facce a parlare se no a finire che vi stanchiamo e non vi collegate neanche più dunque qualcuno oggi ci ha dato un'idea nuova che è wifi in camper che me la sono segnata si si e se avete comunque delle richieste delle idee ce le potete scrivere via messenger oppure via mail a info chiocciolavacanzialia.com oppure nei commenti se questo video pensate che sia interessante che per i vostri amici potete condividere sui vostri profili o nei blog qui in cui voi siete e così riusciamo a diffondere meglio questo questo voglia di stare insieme di pensare sempre al futuro alle vacanze adesso siamo tutti in casa però prima o poi ci potrà riuscire speriamo prima da casa ci potrà riuscire da casa esatto Aurelio dice no siete bravissimi Roberti c'è la prima volta che vi vedo vi ascolto ditemi come posso continuare a vederli allora tutte le mattine ore 10 compreso sabato e domenica noi facciamo una diretta su vacanze alandia sulla pagina vacanze alandia sulla pagina facebook vacanze alandia allora si è un appuntamento che è già iniziato da lunedì 16 marzo e tutti i giorni parliamo di un argomento nuovo in base a che viene suggerito in base a quello che ci suggerite voi in base a delle idee che ci vengono Valeria dice noi l'anno scorso abbiamo fatto un weekend per visitare Vinci ah è vero perché l'anno scorso c'era il cinquecentenario di Leonardo Vinci ottimo anche questo suggerimento di un concessionario che ha investito per per ha fatto benissimo perché no se uno si trova in un luogo dove potrebbe avere delle attrazioni turistiche perché non adestire un'area camper in un lato della propria azienda se ne venga se anche ce ne fossero altri concessionari che lo volessero fare è sempre nel stesso settore quindi magari tutti i concessionari avessero l'area camper per i camperisti e i campeggiatori ma anche per le caravan perché anche loro hanno possono viaggiare e possono essere tranquillamente ospitati in queste strutture poi abbiamo Roberto dice grazie ok ti aspettiamo domani ore 10 Alessio dice Mergo da 17 km da Arcevia cioè quindi praticamente parlavamo di una zona che era più o meno vicino al paese natale del tuo papà bello bello Massimo io abito vicino a Ancone oltre a Mergo intorno ci sono tanti posti gratuiti con il minimo di servizi per chi non cerca il mare persegurati di Frassassi in alto di fronte a Mergo c'è Poggio San Romualdo mille metri quota Cerretodesi e Matelica donne bellissime allora fatti visitare anche con me la gita in Pullman dall'area camper esatto dunque secondo noi se voi pensate geograficamente la Toscana da una parte e le Marche dall'altra l'entroterra delle Marche assomiglia a tanti assomiglia o hanno delle bellezze tanto quanto l'entroterra Toscano probabilmente la Toscana è stata furba che si è venduta molto tempo prima turisticamente ma le Marche hanno altrettante paesine vallate belle degne di essere viste considerate che le Marche anche noi abbiamo partecipato a dei seminari turistici proprio organizzate la ragione loro vantano di chiamarsi al plurale le Marche quindi una regione dove dice abbiamo tante cose da vedere infatti ci chiamiamo al plurale e loro hanno veramente tanto perché hanno la montagna hanno anche degli impianti scistici hanno laghi hanno alcatria hanno tante montagne anche che arriva a 1600-1800 metri quindi per chi vuole la montagna quella da faticare può trovare nelle Marche una buona regione c'è il c'è comunque tutta la zona anche quella che confina con l'Umbria che ha luoghi di rara bellezza Frontone ha una bella area vero che anche Frontone ha una bella area sì, no, nelle Marche ce ne trovano tante adesso io non ricordo se è ancora al primo posto comunque fino a un anno o due fa le Marche erano al primo posto come regione camper friendly quindi effettivamente dovrebbe essere proprio il simbolo dove tante regioni dovrebbero proprio prendere ispirazione bene noi oggi abbiamo concluso questa nostra diretta speriamo di avervi tenuto compagnia era il nostro obiettivo il nostro impegno che ci siamo presi per intrattenervi e per restare insieme a voi ma che bello parlare di andare via eh lo so, però parleremo anche di altre cose non solo di camper e karma stiamo cercando anche altri argomenti allora Massimo dice lo slogan come dice l'Italia è in una regione vero? bravo Aurelio ricorda anche per i camperisti e i carabellisti che esiste anche il Portolano app alternative per cercare di sosta attrezzate abbiamo anche Camp che è la nostra nuova web app noi abbiamo sì c'è il Portolano però noi abbiamo fatto un nostro strumento che è Camp .vacanzalandia.com che è rispetto a ad altri noi abbiamo curato i dati che abbiamo inserito infatti ci sono circa 2500 strutture ricettive in un unico strumento ci sono le aree attrezzate camper gli agri campeggi e tutti i campeggi quindi chi usa camp.vacanzalandia.com non può trovare in un unico strumento tutte le strutture ricettive che ci sono in Italia e sono tutte verificate una per una quindi coordinate gps tutte le giornate telefoni che funzionano tutti indirizzi giusti contatti giusti abbiamo fatto questo strumento proprio perché negli altri abbiamo sempre trovato qualcosa che non ci piaceva noi sfogli quelli cartacei c'è un telefono che non funziona la struttura è chiusa l'indirizzo è sbagliato vai sui database che sono su internet vengono inserite le strutture una volta poi non vengono più aggiornate noi abbiamo proprio veramente una manutenzione quotidiana di questa app dove web app e casomai un giorno ne parliamo perché un web app e non app poi dentro ci sono anche le offerte quindi se uno vengono in una struttura può vedere che c'è le offerte in corso cioè abbiamo fatto proprio uno strumento che serve per viaggiare allora e trovare nel momento in cui uno ha bisogno la struttura più vicina a dove si trova quindi proprio uno strumento non lo sapeva dice anche dal cell certo anche dal cell funziona benissimo anche dal cell si chiama camp.vacanzalandia.com Alessio dice su campo ho trovato cose che da altre non ho trovato wow fantastico perché noi siamo camperisti e campeggiatori non siamo giornalisti o altre cose e quando scriviamo su campo una struttura perché gli abbiamo telefonato l'abbiamo vista l'abbiamo conosciuta l'abbiamo verificato i dati l'abbiamo fatto tutto Valeria dice la vostra l'ho provata ieri c'è veramente tanto complimenti grazie poi tutto in un unico strumento le erano attrezzate gli agricampeggi e i campeggi perché adesso prima di camp per trovare un agricampeggio bisognava andare chissà quale archivio sparso per internet le erano attrezzate alcune erano lì altre sono là però quella lì ha lo stesso nome però ha un indirizzo diverso da quell'altra noi abbiamo fatto una ricerca abbiamo inserito quelle che abbiamo verificato quindi lì sopra ci sono informazioni affidabili e sono quelle che noi pensiamo servono a chi ha bisogno di trovare una struttura cioè mi trovo qui che struttura ho? trovo sul campo la struttura e sono sicuro che il numero di telefono e l'indirizzo è quello giusto buongiorno Sabrina ma me la dice già usata molto valida Francesca dice grazie speriamo di poterci muovere speriamo tutti noi ci siamo messi la maglietta verde speranza questo è il nostro antidepressivo esatto Aurelio dice dove la trovo dopo mettiamo il link Susan ciao Susan dalla Sardegna Sabrina utilissima l'ho già scaricata adesso Giulioni dice io beh allora dunque abbiamo un altro argomento per un altro appuntamento che poi parliamo di camp si possiamo parlare di camp e fa vedere come può essere un valido compagno di viaggio per poter trovare le strutture sia quando sono già là e non so dove andare ma anche pianificando cioè dove vado il prossimo weekend con camp si può ah scusa io ho scritto io invece 10 wow che figura avevo capito che il cartello volesse dire io invece 10 grazie grazie va bene ci dispiace che Giuseppe non siamo riusciti a trovarlo forse ha avuto un impegno del tuo minuto però ci tenevamo a parlare di questo paesello come chiama lui che ha trovato il modo di fare comunque Casal Borsetti anche quella è un caso che ha fatto scuola se passate che tutti i comuni guardassero Mergo e Casal Borsetti per capire il valore del nostro tipo di turismo se passate per l'entroterra delle Marche quindi segnatevi Mergo Loc 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 e Cac No Cac esatto Loc Loc pensate che qualcuno è un aneddoto questo passando di lì aveva visto questo Cac No Cac e allora un po' da ignorante ha chiesto a Giuseppe Carinatese ma scusa cioè i camperisti manuti a fare i loro bisogni e lui ha detto ma no! e lui ha detto ma no! lì siate e scaricano la cassetta però effettivamente lui è ingegnoso come cioè fu veramente longimirante nell'investire su questa casetta e riqualificarla ma anche tutte queste non migliori loc non loc ma è una fantasia eccezionale si si lui e Giuseppe a parte che è una persona simpaticissima e intelligente e veramente da conoscere perché ha tanto da raccontare bene poi se quando le telefonerete per andare a Mergo casomai fare per un raduno dite sai che ho sentito Vacanze Landia Lorenza e Marta che ci conosce benissimo esatto e sicuramente sarà molto contenta quindi anche se c'è tra di voi qualche presidente di Camper Club o qualche amministratore di gruppi Facebook tenetelo in nota questa zona perché è una zona di nicchia la Vallesina poi se siete pochi camper vi porta a vedere i paesi vicini col culmino lo scuolabus mi porta con lo scuolabus a vedere i paesi vicini perché se non ci sono tante persone lo utilizzano lo scuolabus per fare le trasferte bene allora speriamo che sia stata piacevole per noi tanto noi siamo sempre emozionati ogni ogni diretta Facebook perché ogni volta è sempre è sempre un'esperienza nuova un appuntamento che ci sta veramente tanto gratificando era nato così per gioco per non stare soli e stanno venendo fuori tanti belli argomenti tante cose nuove tante tante cose che poi a fine siete voi che ci state trainando noi abbiamo dato l'idea ma voi ci state veramente mettendo l'anima come ce la stiamo mettendo noi e soprattutto il cuore rimanete in casa mi raccomando osservate tutto quello che potete la terza autocertificazione mi raccomando state tranquilli fatti bravi evitate situazioni di propagazione di contagio tutte quelle cose che questo periodo di di reclusione ci servirà per poter raggiungere prima la libertà esatto la saggezza anche come ho scritto stamattina nell'aforesmo bene a domani grazie ai ragazzi grazie anche comunque dei ragazzi ragazzi di una volta però va bene io dentro sempre ragazza comunque fuori ma di schiena no no che facciamo pilates è vero è vero noi facciamo ginastica in casa alle sei di sera ci mettiamo noi siamo ragazzi dentro e belli fuori niente grazie a voi e a domani ore 10 per la diretta! ciao a tutti! ciao a tutti Ciao a tutti.